Qual è la migliore pompa di calore? Beh, sicuramente la pompa di calore geotermica acqua-acqua, come questa. Ma perché? Perché ha un SCOP, quindi un COP medio stagionale superiore a 8. Qui arriviamo a 8.48. Significa che con un kilowattora di corrente elettrica riusciamo a produrre 8 kilowattora termici per riscaldare casa. Cosa straordinaria. Beh, oggi ti racconto una storia di come è stata installata questa pompa di calore, di come si realizza l'impianto con una pompa di calore geotermica qui a casa del cliente. E se vuoi rimanere aggiornato e scoprire i segreti delle pompe di calore, beh, iscriviti sul mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco. Ciao, oggi sono qui in cantiere per raccontarti questa storia di questa pompa di calore geotermica dove il cliente ha investito a casa sua per dismettere per sempre i combustibili fossili e passare una pompa di calore. Perché ha scelto una pompa di calore geotermica con un COP superiore a 8? Beh, perché aveva la fonte disponibile, cioè aveva l'acqua di falda disponibile. Addirittura in questo caso, poi te lo racconterà Luca, che ha realizzato l'impianto, ci siamo ritrovati con l'acqua piuttosto calda, quasi a 15 gradi, che è una cosa estremamente interessante perché il COP di questa pompa di calore supera ancora di più gli otto con questa temperatura. Allora, prima di partire lascia che mi presenti, io sono Samuele e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè a trasformare le loro case in 100% elettriche con le pompe di calore. Non lo faccio io direttamente, ma lo faccio attraverso una rete di installatori partner Sigillo Sicuro, di cui Luca, che tra poco conoscerai, ne fa parte. Sono venuto qui perché volevo raccontarti della pompa di calore geotermica che ha una performance, quindi un rendimento veramente molto alto. Cosa significa avere un COP molto alto? Significa consumare poco, consumare molto meno rispetto a una caldaia. Ma perché raggiungiamo questi SCOP? Beh, un po' la tecnologia, perché per come è stata costruita, pensata, progettata, la pompa di calore e riusciamo ad ottenere delle performance molto più alte rispetto a un'aria acqua. E poi perché la fonte, quindi la temperatura alla quale si basa la pompa di calore, rimane costante. Cioè, stiamo registrando questo video, fuori ci sono 2 gradi e alla pompa di calore non interessa. Ma perché non interessa? Perché lei lavora sempre e solo con l'acqua di falda che si trova a 15 gradi. Quindi che fuori ci siano 0 gradi, 5 gradi, meno 5, alla pompa di calore non interessa. Lei lavora sempre con la sua fonte costante a 15 gradi e quindi con un COP molto alto e quindi consuma veramente poco. Qui stiamo parlando di un consumo addirittura di 400-500 watt. Quindi quasi come un frigorifero, ma qui stiamo riscaldando una casa. Poi ti racconterà Luca. Anzi, con l'occasione ti chiamo Luca che ti racconta un po' la situazione, come è stata realizzata la centrale termica e le condizioni al contorno per capire se anche tu puoi fare lo stesso passo a casa tua. Ciao a tutti da Luca. Beh, voglio parlare di questo progetto fin da le fasi iniziali. Quindi durante il primo sopralluogo abbiamo fatto come sempre l'analisi dell'abitazione, quindi una cosa molto fondamentale per trovare, diciamo, la dispersione della casa e di conseguenza la potenza della pompa di calore. Qui, dopo il primo sopralluogo ci siamo accorti che avevamo tre condizioni favorevoli per installare una pompa di calore geotermica ad acqua. La prima, in primis, ci siamo accorti che avevamo una portata, quindi a disposizione, una corretta portata d'acqua per il funzionamento della pompa di calore geotermica. Due, cosa incredibile, questa acqua, questa disponibilità d'acqua veniva, l'avevamo in modo, diciamo, naturale senza l'utilizzo quindi di sollevamento, di pompe di sollevamento, quindi autoclavi, pompe sommerse, ma venire su in maniera naturale. E come ultima cosa, fattore che è stato sicuramente ancora più importante, è stata la temperatura che abbiamo dell'acqua a disposizione, perché qui abbiamo una temperatura tra i 17 e 18 gradi costanti tutto l'anno. Diciamo che quindi è stata abbastanza scontata la scelta di una pompa di calore ad acqua geotermica, anche perché riusciamo ad avere un'efficienza che è molto maggiore a quello che era il vecchio generatore esistente, qui avevamo una caldaia a gas GPL che alimentava un impianto radiante, quindi diciamo che la scelta è stata abbastanza logica. A proposito di GPL, Luca, ma quanto consumava prima il cliente col GPL? Prima il cliente per scaldare questa abitazione qua, che è un'abitazione in realtà non tantissimo grande, parliamo di circa 150-140-150 metri quadri, spendeva in circa l'anno sui 2.500-3.000 euro di GPL. Chiaramente adesso con la pompa di calore saremo circa un terzo del consumo che poi comunque se in futuro vorrà abbinare alla pompa di calore anche un impianto fotovoltaico sicuramente riusciremo anche ad abbassare ulteriormente quelli che sono i consumi totali. Ok, ma la casa che tipo di impianto ha? La casa, la distribuzione dell'impianto all'interno è realizzato con un impianto radiante a pavimento su tutta l'abitazione. E adesso che siamo in pieno inverno e sta usando la pompa di calore che risultati stiamo ottenendo? Beh, risultati sicuramente soddisfacenti, anzi più di soddisfacenti, poi faremo il conteggio alla fine dell'inverno ma diciamo che i primi due mesi, tre mesi qua di funzionamento tanta roba perché comunque istantaneamente giriamo a circa dai 400-600 watt di consumo all'ora che veramente sono il consumo come dicevi tu prima quasi vicino a un frigo per riscaldare comunque l'abitazione a 22 gradi. Interessante, molto interessante. Bene Luca, adesso passiamo alla centrale termica, vediamo un attimo come è stata realizzata perché quando si parla di pompa di calore geotermica uno si aspetta una centrale nucleare e non ha proprio idea di che cosa consiste installare una pompa di calore geotermica. In realtà con l'evoluzione tecnologica che è stata fatta come vedrai è una soluzione molto compatta che porta via pochissimo spazio e in questo caso abbiamo un bollitore separato ma se fosse integrato in un metro e mezzo quadrato hai tutta la centrale termica però dai andiamo a vedere con i tubi cosa è stato. Sì Samuel qua in realtà abbiamo molto spazio però in realtà anche la macchina è stata progettata proprio per essere più compatta possibile. Cosa particolare di questa macchina è che abbiamo installato uno scambiatore che è un dispositivo importante su questi impianti che serve per proteggere anche la macchina e sopra proprio sopra a tutta la pompa di calore in modo dopo da riuscire ad andare ad essere più compatti e anche a coprire a livello estetico proprio tutto il dispositivo quindi alla fine poi viene fuori diciamo un agglomerato compatto che si incastra bene diciamo in qualsiasi spazio poi in questo caso qua abbiamo un bollitore dell'acqua sanitaria separato perché comunque il cliente aveva esigenza molto di molta acqua disponibile però diciamo che tutto sommato poco spazio si riesce a realizzare tutto quanto come hai detto tu Samuel sembra che una pompa geotermica sia una centrale nucleare ma in realtà è molto più semplice di quello che si crede infatti anche qua l'impianto è composto da un circuito primario che sarebbe l'acqua del pozzo l'acqua di falda dove entra e poi esce attraverso lo scambiatore poi abbiamo dentro la macchina abbiamo la possibilità di deviare l'acqua per fare il riscaldamento o l'acqua calda sanitaria per le docce quindi poi abbiamo portato le tubazioni per riscaldare il bollitore ricollegato l'acqua sanitaria calda e poi abbiamo portato altre due tubazioni per l'impianto riscaldamento a pavimento dove era posizionata la vecchia caldaia qui abbiamo il bollitore dell'acqua calda sanitaria la cui uscita quindi l'acqua calda sanitaria però vedo che va a finire in una bocca da lupo come mai Luca l'acqua va sotto e non va dentro casa diretta si Samuel va sotto perché qua avevamo l'impianto della caldaia il composto della caldaia nella zona cucina dentro un mobile mentre il bollitore avevamo un bollitore esterno che ha raggiunto scantinato quindi abbiamo dovuto portare l'alimentazione dell'acqua fredda e dell'acqua calda giù per ricollegarsi all'impianto ok molto chiaro bene spero con questo video di averti illustrato averti condiviso come si realizza un impianto geotermico con acqua di falda per avere una pompa di calore con un SCOP superiore ad 8 quindi avere veramente una macchina molto molto efficiente che consuma pochissimo diceva Luca 4, 500, 600 watt per riscaldare casa quindi è un ottimo investimento per casa tua per togliere per sempre il combustibile fossile consideriamo che qui il cliente non ha ancora fatto l'impianto fotovoltaico e non è detto che lo realizzerà perché comunque i consumi sono veramente veramente bassi bene con questo ti do appuntamento al mio prossimo video e affronteremo nuove tematiche sempre legate alle pompe di calore geotermiche ciao alla prossima ciao ciao